Un open day per approfondire gli effetti a breve e lungo termine dell'obesità e far conoscere il percorso migliore da intraprendere al paziente, perché dall'obesità si può guarire. In totale sono state 50 le visite gratuite effettuate durante la due giorni organizzata dall'Istituto Nazionale di Gastroenterologia del Debellis di Castellana Grotte. Un'occasione per incontrare il team dei medici che operano nel percorso diagnostico-terapeutico assistenziale multidisciplinare, con la presa in carico totale del paziente, seguito da biologi, dietisti, psicologi, chirurghi bariatrici, cardiologi e tante altre professionalità per un totale di circa 35 unità. D'esta preoccupazione il dato pugliese si stima che circa 300-400 mila persone soffrano di obesità. La conoscenza e l'informazione assumono un ruolo fondamentale per contrastare l'obesità, spiegano all'unisono il direttore sanitario dell'Istituto Roberto Di Paola e il presidente del CIV Enzo Del Vecchio. Per questo abbiamo voluto dedicare al tema la due giorni. In meno di due anni, grazie ai risultati ottenuti con 1700 pazienti l'anno assistiti, di cui circa 200 orientati per la chirurgia bariatrica, la nostra struttura è diventata un punto di riferimento per la Puglia e l'intero mezzogiorno.